Buon pomeriggio dalla redazione del Tg della mobilità. Cantieri a Roma da mercoledì e sino alla 5 settembre, lavori notturni per la manutenzione straordinaria del ponte e del viadotto della Magliana. Dalle 21 alle 6 saranno chiuse le rampe di accesso da via Newton e da via della Magliana in direzione Eur. Lo stesso viadotto sarà chiuso da via della Magliana in direzione del centro. Con la chiusura saranno deviate le linee bus 31 e 780. Intanto a Corso Francia proseguono i lavori per il rinnovo della segnaletica orizzontale sempre in orario notturno tra via Valdagno e la fine del ponte Flaminio. Limite di velocità a 30 km orari e carreggiata ridotta in questo caso. E da oggi al 25 agosto lavori sulla rete del gas in via Tarquinio Collatino per 4 giorni, possibili rallentamenti anche per la linea 657. Per il momento è tutto, un saluto dalla Tg della mobilità. Grazie a tutti.